Venezia. Aveva chiesto asilo politico ma l'anno scorso era già stato espulso dal territorio nazionale su provvedimento del prefetto di Parma. La polizia di Venezia è arrestato un nigeriano di 29 anni che è anche stato denunciato per aver fornito false generalità all'autorità di pubblica sicurezza. Il processo per direttissima si è concluso con la condanna del giovane africano con la pena di sette mesi di reclusione. Per lui è stato disposto anche un nuovo provvedimento di espulsione.